gentili telespettatori buona giornata open arms rinviato a settembre il processo a salvini udienza lampo a palermo il leader della lega rimasto a roma per la crisi di governo non è andato rinviato e se ne parlerà più avanti magari poi ci saranno altri rinvii qualcuno è rimasto un po pensieroso dice caspiterina però da quando salvini governa con il pd ci sono rinvii del processo rimandi al senato dovete decidere voi insomma diciamo che stare al governo col pd fa bene sotto questo aspetto qualcuno ha questo sospetto ma probabilmente sono solo coincidenze ma sì dai sono solo coincidenze vorrete mica pensare che veramente ci sia una correlazione tra i processi rinviati sospesi a chissà quando e il fatto che salvini governi col pd sì dai sono delle coincidenze non pensiamo male non coincidenze arrivederci a tutti e grazie